Una rimonta di orgoglio e qualità è quella che ha permesso al Martina di superare per 3 a 2 in rotonda domenica scorsa al Tursi e i Sars in vetta al girone H di Serie D a punteggio pieno con la team Altamura. La firma sul successo del team guidato da Massimo Pizzulli è stata quella di Riduan Palermo. Noi sappiamo che abbiamo fatto un bel primo tempo anche se stavamo al sventaggio al 1 a 0 ma quando ha finito il primo tempo noi ci mettiamo in testa che se pareggiamo la partita potevamo vincerla. Gol pesante per il centramanti argentino classe 96 arrivato dalla Villa Cidrese, formazione di eccellenza Sarda, prima firma con il Martina per Palermo che ha una dedica speciale. La mia famiglia, anche la mia ragazza che sta in Argentina, sempre facendo i tifosi per me, vedendo il risultato della partita, ancora non si può vedere in diretto ma sempre stanno lì pendente a come finisce la partita. Dal Martina a Martin, nome di battesimo del papà di Riduan, ex leggenda del Boca Junior, attaccante, capace di vincere sei campionati argentini e due Coppa Libertadores. I consigli del Titan, come era ribattezzato in Argentina, fanno parte della formazione calcistica del numero 9 del Martina. Non ci sentiamo tanto perché lui anche sta allenando oggi alle 9 qua d'Italia, gioca con la sua squadra e a volte sta difficile sentire tutti i giorni ma ci sentiamo molto. Lui sta sempre attento alla mia partita. Due consigli, sempre essere lì dentro l'aria e con l'optimismo di fare il gol. A 27 anni Riduan Palermo, cresciuto nell'Arsenal Football Club, è passato per Messico e Spagna prima di trovare centralità calcistiche in Italia. Sa che quella di Martina può essere la rampa di lancio verso i professionisti. Non a caso assicura la vittoria del campionato. È il nostro obiettivo che ci abbiamo messo quando abbiamo iniziato il ritiro. La società, anche noi, i mister, tutti sappiamo che dobbiamo dare il 100% per stare lì, sopra.